Per tutte le ragazze qui da capito su nuovo Raga oggi andremo a fare obbligo verità con mio fratello Che ho l'applicazione qua nel telefono Io non so Che cosa stai succiando? Che cosa te la fai il pomo? Allora obbligo verità Allora io ho segregato qua l'applicazione Esattamente appena finito la scuola Che per me oggi è il 29 aprile Ok Raga ecco qui l'applicazione Come vedete obbligo verità Allora Bambini, teenager, adulti Ci sono le tre opzioni Noi facciamo adulti La modalità per adulti non è Sì dai sì dai Vaffanculo Allora nome giocatore? Coglione No no tu ti metti coglione Coglione Allora il tuo nome è coglione Ok Poi Stupido 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 e coglione Gioca vai Allora cerchiamo di fare più verità Facciamo tipo Vediamo cosa ci viene fuori Cuglio Eh sì Coglione Turno del coglione Raga è fatto così Si presenta così Coglione turno Obbligo verità Verità Bisogna schiacciare obbligo Eh schiaccia quello che vuoi Verità obbligo Dai dimmi che schiaccio io Ah e scegli Obbligo Obbligo Leggi l'ultimo messaggio di testo che hai ricevuto ad alta voce Chi era che ricevuto? Sì L'ultimo messaggio che hai ricevuto su Whatsapp E leggi ad alta voce 1 2 4 1 2 3 4 5 6 eccetera Ma che cazzo? E cos'era? Il mio amico che è il primo Ah gli esercizi? L'abbiamo letto Era dei numeri a caso L'ultimo messaggio era quello Vabbè Completato Ok tocca a me Facciamo verità Vediamo Facciamo verità Su una scala da 1 a 10 Quando pensi di essere bello? Amori miei Secondo voi Allora Su una scala da 1 a 10 Questa Ve lo giuro c'è la domanda È scritta qua Su una scala da 1 a 10 Penso di essere bello Dai sufficiente sì Dai 6 a me 7 7 Non lo so dai Turno tuo Verità ok Hai mai indossato abiti del sesso opposto? Forse da piccolo Vabbè Completato Tocca a me Facciamo un obbligo per me adesso Che cazzo Ok raga Tocca a me Obbligo Ho fatto obbligo stavolta Canta qualsiasi cosa Per il resto della partita Porca puttana Ok Cosa canto? Canto una canzone di Sfera Che sono praticamente L'unica che so Ti ho colpita Sono cupido Fatti 7 minuti Una tipa sci Ok dai leggi scusa Fatti 7 minuti in paradiso Con qualcuno Ma che cazzo Uno è un'altra? No no aspetta No no non facciamo un'altra Che senso ha raga? Cioè fatti 7 minuti in paradiso Con qualcuno Ok Sei in paradiso Per 7 minuti Questo non ha tanto senso Andiamo avanti Ehm Verità Tocca a me giusto? Verità Hai mai baciato qualcuno Dello stesso accesso? Nico ti ricordi? Ci siamo baciati una volta Nelle sfide Che non mi ricordo che episodio era Penso il settimo O il sesto E anche Nella settimana gameplay Ti ricordi? Ogni kill un bacio Ti ricordi? Sì Bastardo Vai Tocca a te Beh prendi sto telefono Schiacciate Madonna Se dovessi vivere con solo Oggetto Con un solo oggetto Quale sarebbe? Se dovessi vivere con un solo oggetto Quale sarebbe? Quale sarebbe? Ok facciamo un'altra verità Per me che mi piace Non botto le verità Qual è il tipo di ragazzo Ragazza che ti piace? Allora deve essere Mora Con i capelli neri Con un bel carattere E vabbè insomma Io ce l'ho già Quindi Beh anzi Nico Fala te Dai Anche se l'hai già fatta Facciamo per te questa domanda Visto che io ce l'ho già fidanzata Tu pro Tu vai Che sia Che non sia stronza Che non sia come lui Andicapato E che non mi faccia spendere soldi Bitch Te vorissi caro Miric Te vorissi Ok raga Tocca a me Adesso faccio un obbligo Vediamo cosa mi viene fuori Fai Un rap Sulla persona Alla tua sinistra Yo Yo Siamo qua Dentro una cazzo a distanza Non so fare le rime Ma non so fare un cazzo Prossima Prossima domanda Un rap nato Dio Salmo spostati Ma massaggio le chiappe Del giocatore Alla tua destra Mamma mia Questo lo fai Questo lo fai Ma come cazzo può sapere Che alla mia destra C'è qualcuno Lo so È vero però Ok rileggi cosa devi fare adesso Massaggio le chiappe Del giocatore Alla tua destra Massaggia Massaggiami il culo Testa di cazzo Dai mettiamoci in piedi Questa la fai Dai È semplice Allora aspetta che metto la Andiamo se si vede Vai Massaggiami le chiappe Puoi dirò fuori la lingua Perché Ah fai vedere Fai vedere Raga la lingua sulla maglietta Vai Massaggio le chiappe Per 5 seconde Si deve vedere però Pesta di cazzo Si deve vedere Wow Oh mio Dio Quindi Quindi Sbaglia sta parte No Quindi Scrivetemelo in direct Che ve lo dico In direct A qualche persona lo dico Quindi Fatevi sentire Se potessi cambiare qualcosa del tuo corpo Cosa cambieresti Perché urli Testa di cazzo Cosa cambieresti Nico Se potessi Mi orecchia Quale Testa Fai vedere cosa riesce a fare Ah ma Guardate Guardate che testa di cazzo Avvicinati Cioè Non cazzo di cazzo Allora Facciamo l'ultimo raga Che Per me Facciamo l'ultimo E Una verità Faccio l'ultima verità Raga dopo concludiamo Ok Verità Hai con te dei preservativi Ancoli qua Ancoli qua Li volete Tenete Forse ho un'altra scatola Ah no Tenete Uno Tieni Grazie A posto Tanto ho diviso sempre Tenete Tenete Per lì regalo Aspetta Ok raga Abbiamo fatto questo vidietto Obbligo verità con mio fratello Niente abbiamo fatto Lui Mi ha palpeggiato il culo Quindi diciamo Che non è stato il massimo Però va bene Però Nico qualcosa da dire Prima che concludo il video Non fate mai obbligo verità Anche questo era Un obbligo verità Perché ho guardato su play store Perché questo l'ho scaricato da play store C'era obbligo verità Tipo hot Obbligo verità Da fare con la propria ragazza Fai un Fai un Cioè Proprio hot Fai schifo Quindi Potremmo farlo Non contare intendo Con la mia fidanzata Potrei farlo Che cazzo sei te Potrei farlo raga Quindi vediamo come va il video E magari porterò Un altro obbligo verità Con la mia fidanzata Hot Quindi vediamo come va il video Raga Iscrivetevi Commentate Lasciate un like Instagram Iscrivetevi Commentate Lasciate un like Instagram mio In descrizione E anche il suo E noi ci vediamo Al prossimo Ciao